Prato resta di gran lunga la provincia toscana dove la RC Auto costa di più e questo nonostante il calo record vicino al 20% fatto registrare nei primi mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A dirlo è la ricerca pubblicata dall'osservatorio RC Auto di Facile.it che sottolinea come un po' in tutta la regione le polizze siano diminuite a causa dell'effetto pandemia con il crollo nel numero di incidenti nel periodo di lockdown. Un calo che però sta già avendo un'inversione di tendenza. Tornando a Prato la ricerca evidenzia come la provincia sia la più cara per l'RC Auto con un premio medio per assicurare un'auto a febbraio 2021 di 702,43 euro. Dietro ben distanziate seguono Massa Carrara 566,94 euro e Pistoia con un premio medio pari a 562,33 euro. Tenendo conto che sempre a febbraio il premio medio in Toscana era di 507 euro e quello italiano 464, ecco che risulta chiaro quale sia il salasso a cui sono sottoposti gli automobilisti pratesi. La parziale consolazione è il fatto che la provincia che ha registrato la riduzione più consistente sia proprio Prato, dove la tariffa RC Auto media è diminuita in un anno del 19,37%. La parziale consolazione è il fatto che la provincia è un'auto che 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 è un'